Ups a tutti, mi cari Upsine Upsine, come 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 state? Spero bene dai, stasera sono qui perché secondo me hai proprio 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 bisogno di rilassarti Cioè io percepisco che hai proprio bisogno di un po' di ASMR per rilassarti Però secondo me sì dai, perciò indossa subito un paio di cuffiette o cuffie più grandi Quindi sentiti sul tuo letto e prova a chiudere gli occhi perché secondo me riesci anche ad addormentarti, va bene? Ok Allora nel video di oggi farò appunto qualche trigger, secondo me veramente, veramente rilassante Quindi poi tu mi dirai se sei riuscito o riuscita ad addormentarti Sì, va bene? Ok Inizio, iniziamo subito Allora mi sono appuntato qua i trigger più o meno che devo fare Allora parto da uno molto semplice E in realtà in alcuni punti di questo video vorrei provare ad alzare un pochino di più la voce E provare un po' di soft spoken Anche se in realtà fatto da me non mi piace troppo Però trovo per esempio che fatto dagli altri sia molto più rilassante Però appunto farò dei piccoli accendi ogni tanto Ok Ok Fammi quindi sapere se alla fine il soft spoken ti piace Oppure meglio lasciare perdere Perché così ascoltando i vostri consigli il mio canale migliora anche diciamo Perché so quello che vi piace e quello che non vi piace Ho qui questo rompicapo di legno Che può un suono molto 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 bello Che però ora posso Ora posso perché voglio fare un altro trigger Questo qui un po' più visivo Perché avevo voglia di farvi un po' di scratching sul viso Quindi un po' di Che ne dici? Per questo trigger Scegli se Tenere gli occhi aperti E osservare il mio dito Oppure chiuderli Ok 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 Scragg, scragg, scragg Non voglio farli troppo, troppo, troppo lunghi questi trigger Adesso, aiuto, vorrei fare del tapping su questa scatola di cartone che avete già visto Questa qua Un po' da un lato E un po' da un altro, dall'altro Quindi raccontatemi qualcosa di voi Ormai siamo già ad ottobre Settembre l'abbiamo superato Voi preferite in generale il tapping? Con le unghie Oppure con i polpastrelli A me piacciono entrambi Dipende magari dall'oggetto Perché qua quello con i polpastrelli si sente pochissimo Ok dai basta Riprovo a dire qualcosa in soft spoken Perchè devo capire come regolare la voce Nel senso se così va bene Nel senso se così va bene Oppure provare ad alzarla un pochino di più O come sto facendo in questo momento Però non lo so mi risulta comunque strano Aiuto Non mi piace tanto Vabbè Il prossimo trigger che ho scelto di fare per voi è un classico Il pennello Il pennello Il pennello Il pennello Il pennello Il pennello Com'è? No Non lo capisco E vorrei passarlo un pochino sulla telecamera Per fare così altri visual trigger che io amo Adoro Perchè mi tengono proprio incollato allo schermo Vedere che cosa succede Più avanti se riesco proverò a fare un video dove farò tanti visual trigger Che saranno però un po' più interattivi Va bene Vedremo cosa riesco a fare Come sempre vi chiedo Se avete qualche idea che io riesco a realizzare secondo voi Provate a scrivermelo in un commento qua sotto Va bene Perchè se appunto riesco a realizzarla Sono molto felice di farlo Quanto vorrei avere uno studio per dover registrare a qualsiasi ora Perchè il fatto di dovermi alzare alle 3 sempre E il fatto di dover sempre montare e smontare Perchè tutto questo studio mi limita tantissimo Però si fa qualche si può Ok Tutto a posto Tutto a posto Tutto tutto a posto Perfetto Adesso un altro trigger Devo sempre aggiungere un trigger Plasticoso Perchè a me piacciono un sacco E ho qua Due salviette Di quelle al limone Nelle bustine Diera Dr Prue Perchè Perchè Nel Perchè Perchè Pedic Parker Ho le labbra un po' secche Ho le labbra un po' secche Ho le labbra un po' secche Secondo me, ah non sono stupendo E voi che ne dite? Che ne dite che ne dite che ne dite? Bene, adesso dovrei avere l'ultimo trigger che ho preso questo tubetto di carta Quello semplicemente del rotolo della cardigenica Qui posso fare sia un po' di tapping Così Ma vorrei provare a... Cambia qualcosa oppure no? Secondo me cambia Non lo so, fatemi sapere dai Di certo è un trigger Un po' strano Da fare Ok Ho sistemato di nuovo tutto Alla fine io non so neanche se avevo il microfono al centro Vabbè, il mio solito Quindi adesso mi avvio verso la fine del video Perché è arrivato il momento di dire Cucu Cucu Adesso, adesso tocca solo a te Iscriviti al canale Se sei nuovo Per entrare a far parte di questa grande famiglia Che è la Ops community E per farla crescere sempre sempre di più Perché è ancora piccolina adesso Poi lascia un bel like se il video ti è piaciuto E mi raccomando se hai un po' di tempo Lasciami un commentino Fammi sapere cosa ne pensi Perché secondo me Fa piacere Cioè a me fa molto piacere leggere i vostri commenti Poi Il video di oggi purtroppo finisce qui Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me Io ti lascio Di qua il mio video precedente Di qua una mia playlist E qua sotto il tasto per andare sul mio canale E vedere qualunque video tu vorrai Quindi Ne ho fatti veramente tanti Da qui a Tre anni fa Quasi quattro mi sembra Aiuto Quindi Puoi spizzarirti Io ti mando un grande 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 bacio E noi ci vediamo qui Tra esattamente una settimana Perché uscirà un nuovissimo video Va bene? Quindi Buonanotte 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 Buonanotte